partete in leggero ritardo Bridge Kronos in vantaggio QGONO nei confronti di Faxfile quindi Yet Sir per linee interne Life Dance in quinta posizione all'esterno Amazing Starlet davanti a Money Bubu e Bridge Kronos che si ricongiunge dopo i primi 500 metri di corsa QGONO prosegue in vantaggio sempre tallonato da Faxfile quindi per linee interne Life Dance con all'esterno Amazing Starlet quindi Bridge Kronos che avanza all'esterno ancora Yet Sir con in coda Money Bubu Cavalli ora lungo la curva con in vantaggio sempre QGONO nei confronti di Bridge Kronos quindi Faxfile, Amazing Starlet, Life Dance, Yet Sir e Money Bubu. Cavalli ora in retta di arrivo con QGONO che prosegue in vantaggio nei confronti di di Bridge Kronos quindi a largo Yet Sir per linee interne Amazing Starlet cerca il varco anche Life Dance più indietro Money Bubu. Siamo a trecentocinquanta dal palo con in vantaggio sempre QGONO nei confronti di Amazing Starlet quindi Life Dance centropista quindi ancora Bridge Kronos e a largo di tutti Money Bubu ha preso vantaggio Amazing Starlet nei confronti di Life Dance nel tratto finale a Amazing Starlet si impone su Life Dance QGONO e Bridge Kronos. Rivediamo le immagini con Gabriele Pietolini in sella da Amazing Starlet numero tre dello schieramento che è messo a duecentocinquanta dal palo per poi mantenere la meglio fin sul palo nei confronti del numero quattro Life Dance al terzo posto rimane QGONO col numero uno quindi tre quattro uno il probabile ed ufficioso arrivo della quinta di Napoli Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti